A Emodiana assapora il primo amaro gusto della sconfitta. Dopo quattro vittorie consecutive la Feralpi salo cede in casa contro il Cuneo e una rete di corrade alla mezz'ora della ripresa ad interrompere la striscia positiva dei risultati della squadra gardesana. Un passo falso che brucia alla luce comunque di una prestazione lodevole con qualche errore di troppo, specie sottoporta un K-O che nulla toglie la classifica ottimale della squadra dei Leoni del Garda con 24 punti già conquistati e all'orizzonte lo scontro al vertice contro la capolista Cittadella di settimana prossima. Feralpi salò smarrire tuttavia nuovamente la strada di casa con il Lino Turina per l'ennesima volta, terreno di conquista per altri. Quella contro il Cuneo è stata la quarta sconfitta tra le mura amiche della compagine del patron Giuseppe Pasini, tre sotto la gestione serena e una con quella di Diana. A scardinare il fortino verde-blu era un gol di Corradi al 29esimo della ripresa, una marcatura nata da una rimessa laterale trasformata in oro dall'ex centrocampista dell'Albino Leffe in quello che rimane uno dei pochissimi tir in porta del Cuneo nei 90 minuti di gioco. Per la Feralpi salò tanto gioco e poche occasioni, limpide da rete. Al contrario delle ultime uscite, Romero e gli avanti di Diana hanno fatto fatica a trovare lo spiraglio giusto e il guizzo per sbloccare la sfida. Nemmeno nel finale la mossa della disperazione di Aimodiana a mandare in campo il giovanissimo diciottenne Boccai riusciva a mutare il corso della partita. Feralpi salò sconfitta e K.O. nuovamente in casa, ora la super sfida alla capolista cittadella per ripartire e riaprire il campionato.